Con questo tutorial vediamo degli esempi riguardanti la ricerca degli asintoti. In particolare in questo video andremo a ricercare asintoti verticali e orizzontali. Partiamo da questo esempio. La prima cosa che devo fare è calcolare il dominio di questa funzione. Essendo una funzione razionale fratta, vado a porre il denominatore diverso da zero. Risolvendo ottengo x diverso da più o meno 1. Il dominio di questa funzione sarà da meno infinito a meno 1, da meno 1 a 1 e da 1 a più infinito. A partire dai valori che abbiamo escluso dal dominio andiamo a ricercare gli eventuali asintoti verticali andando a calcolare il limite da sinistra e da destra di 1 e di meno 1. Partiamo da 1 e ne vado a calcolare il limite destro e il limite sinistro. Partiamo dal primo limite e vado a sostituire al posto delle x 1 più. Sostituendo al numeratore 1 più otterremo 4 più 1 che fa 5 più meno 1 ed ottengo una quantità un po' più grande di 4. A denominatore 1 più meno 1 ottengo una quantità un po' più grande di 0. Numeratore e denominatore sono positivi quindi qui il segno sicuramente è positivo e un numero diviso 0 è più infinito. Vado ora a calcolare il limite di x che tende a 1 meno. Sostituendo 1 meno al numeratore avrò 4 per 1 meno otterrò 4 meno, più 1 ottengo 5 meno, meno 1 ed otterrò una quantità un po' più piccola di 4, 4 meno. A denominatore sostituendo qui 1 meno, 1 meno meno 1 ottengo una quantità un po' più piccola di 0 e scriverò 0 meno. 4 meno è una quantità positiva, 0 meno è una quantità negativa e allora qui certamente vado a mettere il segno meno e un numero diviso 0 è infinito. Avendo ottenuto una quantità infinita a sinistra e a destra concludo dicendo che x uguale a 1 risulta essere un asintoto verticale della funzione. Faccio ora lo stesso ragionamento per x uguale a meno 1. Vado a calcolare il limite di x che tende a meno 1 più. Sostituiamo meno 1 più a numeratore e a denominatore. Meno 1 più al quadrato ottengo una quantità un po' più piccola di 1 moltiplicata per 4 otterrò 4 meno. 4 meno più 1 ottengo 5 meno e poi meno meno 1 otterrò 6 meno. A denominatore meno 1 più al quadrato ottengo una quantità un po' più piccola di 1, ossia 1 meno e 1 meno meno 1 è pari a 0 meno. 6 meno è una quantità positiva, 0 meno è una quantità negativa e allora qui metto il segno meno e un numero diviso 0 è pari a infinito. Vado ora a calcolare il limite di x che tende a meno 1 meno. Sostituendo al numeratore avrò meno 1 meno al quadrato ottengo una quantità un po' più grande di 1 per 4 ed ottengo 4 più, più 1 ottengo 5 più e poi meno meno 1 otterrò 6 più. A denominatore meno 1 meno al quadrato mi dà una quantità un po' più grande di 1, ossia 1 più meno 1 ed ottengo 0 più. Numeratore e denominatore sono positivi, quindi qui metto più e un numero diviso 0 è più infinito. Avendo ottenuto come risultato delle quantità infinite, posso concludere dicendo che x uguale a meno 1 è un asintoto verticale. Andiamo ora a stabilire se la funzione ammette asintoti orizzontali. E allora vado a calcolare il limite di x che tende a infinito della funzione. Vado a considerare il grado maggiore a numeratore e a denominatore e poi semplifico le x ottenendo come risultato 4. Avendo ottenuto un numero finito, posso concludere dicendo che y uguale a 4 risulta essere un asintoto orizzontale della funzione. Vediamo quest'altro esempio. La prima cosa che vado a fare è calcolare il dominio di questa funzione e allora vado a porre il denominatore x alla seconda meno 4 diverso da 0. Risolvendo si ottiene che x deve essere diverso da più o meno 2 e allora il dominio di questa funzione sarà da meno infinito a meno 2 unito da meno 2 a 2 unito da 2 a più infinito. Vado ora a stabilire gli eventuali asintoti verticali e vado a fissare l'attenzione sui valori coescluso dal dominio. Partiamo da 2 e allora vado a considerare il limite della funzione a 2 più e a 2 meno. Calcoliamo il primo limite e vado a sostituire al posto della x 2 più. 2 più al cubo è pari a 8 più. Per 4 ottengo 32 più, meno 1 ed ho 31 più. A denominatore 2 più al quadrato ottengo una quantità un po' più grande di 4 e 4 più meno 4 è pari a 0 più. Numeratore e denominatore sono positivi, quindi qui metto il più. E un numero diviso 0 è infinito. Calcolora il limite a 2 meno. 2 meno al cubo è pari a 8 meno. Per 4 ottengo 32, meno 1 ottengo 31 meno. A denominatore 2 meno al quadrato mi dà una quantità un po' più piccola di 4 e scrivo 4 meno. E 4 meno meno 4 è pari a 0 meno. 31 meno è una quantità un po' più piccola di 31, quindi è positiva. 0 meno è una quantità negativa. e allora qui metto il meno e un numero diviso 0 è infinito. Avendo ottenuto quantità infinite per il limite di x che tende a 2 più e 2 meno, allora posso concludere dicendo che x uguale 2 risulta essere un asintoto verticale della funzione. Faccio ora lo stesso ragionamento per l'altro valore, x uguale meno 2. Partiamo con meno 2 più. Meno 2 più è come se fosse meno 1,9 e quando lo eleviamo al cubo otteniamo meno 8 meno. Moltiplicando per 4 otterremo meno 32 meno. Meno 1 ed avrò meno 33 meno. A denominatore, meno 2 più al quadrato mi dà una quantità un po' più piccola di 4 e una quantità un po' più piccola di 4 meno 4 è pari a 0 meno. Ora, il numeratore è negativo, visto che vi è un meno 33, il denominatore è negativo e allora meno diviso meno ed ottengo più. E un numero diviso 0 è infinito. Vado ora a considerare il limite di x che tende a meno 2 meno. Meno 2 meno è come se fosse meno 2,1. al cubo otterrò meno 8 più. E poi dobbiamo moltiplicare per 4 ottenendo meno 32 più. Meno 1 ed otterrò meno 33 più. Sostituisco al denominatore. Meno 2 meno al quadrato è pari a 4 più perché è come se fosse meno 2,1 al quadrato ottenendo una quantità un po' più grande di 0. Il numeratore è negativo, il denominatore è positivo e allora come segno metterò meno e un numero diviso 0 è infinito. Avendo ottenuto quantità infinite a meno 2 più e a meno 2 meno, posso concludere dicendo che x uguale meno 2 risulta essere un asintoto verticale. Vado ora a stabilire se la funzione ammette asintoti orizzontali. E allora devo calcolare il limite di x che tende a infinito della funzione. Vado a considerare il grado maggiore a numeratore e a denominatore. Ed ora posso semplificare x quadro con la potenza 3 di x sostituendo qui al posto di x infinito avrò 4 per infinito ottenendo infinito. Non avendo ottenuto un numero allora posso concludere dicendo che la funzione non ammette asintoti orizzontali. Vediamo quest'altro esempio. La prima cosa che devo fare è calcolare il dominio della funzione ponendo il denominatore diverso da 0. Mi rendo conto che questa quantità è un quadrato di binomio che posso riscrivere come x più 2 alla seconda. Estraendo ora la radice quadrata di tutte e due membri otteniamo x più 2 diverso da 0 da cui x diverso da meno 2 e allora il dominio sarà da meno infinito a meno 2 unito da meno 2 a più infinito. Per stabilire ora se la funzione ammette asintoti verticali andrò a calcolare il limite sinistro e il limite destro del valore che abbiamo escluso dal dominio. Per calcolare i limiti conviene riscrivere il denominatore come quadrato di binomio. Partiamo dal limite di x che tende a meno 2 meno sostituendo qui e qui meno 2 meno. Meno 2 meno più 3 ed avrò una quantità un po' più piccola di 1 e scriverò 1 meno fratto meno 2 meno più 2 ottengo 0 meno 0 meno elevato al quadrato mi dà 0 più. 1 meno è una quantità positiva 0 più è una quantità positiva e allora scriverò più e un numero diviso a 0 è pari a infinito. Calcolare il limite di x che tende a meno 2 più meno 2 più più 3 è pari a 1 più fratto meno 2 più più 2 ottengo una quantità un po' più grande di 0 0 più elevando al quadrato otterrò 0 più numeratore e denominatore sono tutte e due positivi e metterò un più e un numero diviso a 0 è pari a infinito. Avendo ottenuto quantità infinite a sinistra e a destra di meno 2 posso concludere dicendo che x uguale meno 2 risulta essere un asintoto verticale di questa funzione. Vado ora a stabilire se questa funzione ammette asintoti orizzontali e allora vado a calcolare il limite di x che tende a infinito della funzione. Vado a considerare il grado maggiore a numeratore e a denominatore e vado a semplificare la x con la potenza 2 di x quello che mi resta è 1 su x sostituendo qui al posto di x infinito avrò 1 su infinito che risulta essere pari a 0 Avendo ottenuto qui un numero quando x tende a infinito posso concludere dicendo che y uguale a 0 risulta essere un asintoto orizzontale della funzione Vediamo quest'altra funzione la prima cosa che vado a fare è calcolare il dominio e allora devo porre l'argomento della radice ossia x più 3 fratto x maggiore o uguale a 0 e allora vado a porre il numeratore maggiore o uguale a 0 e il denominatore maggiore di 0 e quindi dal numeratore ottengo x maggiore o uguale di meno 3 Vado ora a fare lo studio del segno considero meno 3 metto un pallino dell'uguale a destra più e a sinistra meno poi ho per quanto riguarda il denominatore x maggiore di 0 individuo a 0 a destra metto più e a sinistra metto meno faccio lo studio del segno ottenendo più qui 0 meno e più e allora posso dire che la funzione esiste in questa regione e in questa regione e allora il dominio sarà da meno infinito a meno 3 incluso e metto una parentesi quadra unito 0 escluso e metto una parentesi tonda più infinito posso ora iniziare la ricerca degli asintoti verticali della funzione devo fissare l'attenzione sui valori di bordo del dominio in particolare a meno 3 e a 0 meno 3 non lo vado a considerare in quanto è incluso nel dominio qui vi è una parentesi graffa quindi l'unico valore per cui la funzione potrebbe ammettere asintoto verticale è il valore x uguale a 0 e allora devo andare a considerare il limite in questo punto in particolare a 0 potrò effettuare soltanto il limite da destra perché il limite da sinistra non esiste in quanto per valori più piccoli di 0 e maggiori di meno 3 la funzione non esiste e allora vado a calcolare il limite di x che tende a 0 più di radice quadrata di x più 3 fratto x sostituisco 0 più a numeratore e a denominatore 0 più più 3 ed ottengo 3 più fratto 0 più tutto quanto sotto radice 3 più diviso 0 più ottengo una quantità certamente positiva e un numero diviso 0 è pari a infinito radice di infinito è uguale a più infinito avendo ottenuto una quantità infinita posso concludere dicendo che x uguale a 0 risulta essere un asintodo verticale destro della funzione vado ora a stabilire se questa funzione ammette asintoti orizzontali e allora devo andare a calcolare il limite di x che tende a infinito di radice di x più 3 fratto x vado a considerare il grado maggiore a numeratore e a denominatore semplifico ora x con x ed ottengo radice di 1 che risulta essere uguale a 1 avendo ottenuto qui un valore finito posso concludere dicendo che y uguale a 1 risulta essere un asintodo orizzontale della funzione vediamo quest'ultimo esempio vado a calcolare il dominio di questa funzione devo andare a porre l'argomento della radice x alla seconda più 4 maggiore o uguale a 0 e il denominatore di questa funzione x diverso da 0 osservo che x alla seconda più 4 risulta essere sempre maggiore o uguale a 0 quindi l'unico valore che escludo è 0 ciò vuol dire che il dominio della funzione sarà da meno infinito a 0 unito 0 più infinito posso ora andare a stabilire se la funzione ammette asintoti verticali fissando la tensione su 0 e devo andare a calcolare il limite di x che tende a 0 più e a 0 meno della funzione partiamo da 0 più e vado a scrivere radice di x alla seconda più 4 fratto x sostituisco 0 più qui e qui 0 più al quadrato è pari a 0 più più 4 ed ottengo 4 più la radice di 4 più è pari a 2 più fratto 0 più ho a numeratore e denominatore quantità positive quindi certamente metto un più e un numero diviso 0 è pari a infinito calcolo ora il limite di x che tende a 0 meno e vado a scrivere radice di x alla seconda più 4 fratto x 0 meno al quadrato è come se fosse meno 0,1 al quadrato ed ottengo una quantità un po' più grande di 0 più 4 ed avrò una quantità più grande di 4 e radice di 4 più risulterà essere 2 più fratto 0 meno 2 più è positivo 0 meno è negativo quindi come segno devo mettere meno e un numero diviso 0 è infinito avendo ottenuto infinito sia 0 più che 0 meno posso concludere dicendo che x uguale a 0 risulta essere un asintoto verticale della funzione vado ora a stabilire se la funzione ammetta asintoti orizzontali e allora devo calcolare il limite di x che tende a infinito di radice di x alla seconda più 4 fratto x per risolvere questo limite considero il grado maggiore a numeratore che risulta essere x quadro e quindi scriverò radice di x quadro fratto x posso ora semplificare la radice quadrata con la potenza 2 e vado a scrivere valore assoluto di x fratto x vado ora a distinguere due casi se x è maggiore di 0 e se x è minore di 0 per x maggiore di 0 ossia quando x tenderà più infinito scriverò x fratto x e quindi come risultato semplificando ottengo 1 quando x è minore di 0 ossia quando x tende a meno infinito scriverò meno x su x e quindi semplificando ottengo meno 1 ho così ottenuto due valori entrambi finiti e concludo dicendo che y uguale a 1 ed y uguale a meno 1 risultano essere due asintoti orizzontali allo stesso risultato potevo arrivarci se avessi calcolato il limite di x che tende a più infinito e a meno infinito della funzione e con questo termino il tutorial sulla ricerca degli asintoti delle funzioni grazie a tutti